nuova perquisizione ricerca delle carte su cristiano ronaldo è facile è normale in questo momento che come prima reazione si possa parlare di accanimento si va a cercare solo nei confronti della juventus le altre non vengono nemmeno nominate non ci sono in corso indagini aspettiamo ragazzi aspettiamo questo è un filone di indagine particolare perché è nato dalla consob perché la juventus è l'unica società quotata in borsa di quelle che rientrerebbero nella cerchia delle attenzionate e questo ha dato ovviamente impulso alle indagini la nuova perquisizione non è altro che un atto normale nel momento in cui si va a cercare un documento che non si trova e l'unica maniera per cercare un documento che non si trova è quello di andarlo a cercare direttamente ossia se diciamo così la juventus non è in grado di produrlo evidentemente c'è la necessità da parte degli inquirenti di andare a cercare questo documento o qualcosa che possa eventualmente portare essere relazionato a questo documento relativo al trasferimento di cristiano ronaldo la cosa che può effettivamente preoccupare un po' è questo nuovo comunicato della società che peraltro rientra in un altro in un altro atto dovuto se vogliamo perché rientra nella logica della situazione mi spiego molto velocemente cerco di ridurlo in parole semplici la juventus ha sempre dichiarato ampia collaborazione se voi vi ricordate è stato appena sottoscritto un aumento di capitale tra le cause di recesso dall'aumento di capitale cioè di coloro che hanno portato questo aumento ci sono ovviamente le situazioni contemplate nell'indagine in corso vale a dire che allo stato attuale l'aumento di capitale c'è ma se dovessero emergere e il rischio c'è lo sottolinea la stessa juventus emergere il rischio di condanne nei confronti di membri della società questa può essere una delle cause di recesso da parte di coloro che hanno sottoscritto il l'aumento di capitale cosa significa che qualora si dovesse arrivare alla condanna eccetera uno può dire no io l'aumento di capitale non lo sottoscrivo più non solo ovviamente i privati cittadini diciamo così ma le società o coloro che all'interno dell'exo hanno portato l'aumento di capitale possono anche recedere dall'aumento di capitale voi per la situazione di eventuale condanna sto parlando di sede penale dei protagonisti voi si dice nello stesso comunicato la juventus per questioni di immagine che naturalmente potrebbe essere pregiudicata a livello pubblico da parte della stessa juventus è chiaro che questo potrebbe portare in teoria tutti i sottoscrittori dell'aumento di capitale a recedere quindi praticamente a non effettuarlo più in sostanza o una parte di loro a recedere e quindi la possibilità che si arrivi ad un aumento di capitale parziale voi potete immaginare quale potrebbe essere la conseguenza se l'aumento di capitale fosse parziale se fosse parziale e ampiamente parziale è chiaro che tutta la progettualità della juventus non solo in sede di campagna rafforzamento perché campagna acquisti è proprio l'ultima voce l'ultimissima voce di questo aumento di capitale ma anche tutto il resto e ne sarebbe seriamente compromesso o comunque in gran parte compromesso ecco non non pregiudicato completamente ma seriamente compromesso con tutte ovviamente le conseguenze perché se tu ovviamente ti dai una progettualità sulla base di 400 milioni che entrano nelle casse vuoi per ulteriori investimenti vuoi e soprattutto per colmare determinati buchi è evidente che se non riesci a dare corso a questo progetto c'è una cascata di conseguenze negative non solo sull'impatto d'immagine ma proprio sull'impatto economico e sulla forza economica della società non si può fare altro che aspettare ragazzi qua non c'è nulla da fare se non attendere l'evolversi degli eventi e cercare di capire quello che potrà succedere c'è una società che dovrà eventualmente prendere le proprie decisioni che in questo momento è molto collaborativa sul piano delle indagini e voi sapete che la massima collaborazione può comportare alla fine di un procedimento sicuramente una importante attenuante sull'eventuale attribuzione di pene sia a livello societario che a livello di singoli e quindi si aspetti nel frattempo direi che sarebbe anche giusto focalizzarsi e molto sull'aspetto tecnico sull'aspetto calcistico più che sull'aspetto diciamo così strettamente economico finanziario e legale e ribadire che ragazzi qua la juventus è di fronte a quattro partite che possono determinare una svolta ma adesso non voglio essere frainteso come accade a volte nel senso che non voglio dire che se la juve vince quattro partite torna in corsa per lo scudetto no no perché naturalmente dipende da quello che faranno le altre dipende da da quanti punti riuscirà eventualmente a rosicchiare ammesso che riesca a prendere dei punti allora se le vince tutte e quattro ragazzi può sfruttare il discorso degli scontri diretti che ci sono perché c'è ancora da giocare un milan napoli c'è un napoli atalanta c'è inter roma attenzione non sto guardando all'inter sto guardando anche alla roma cioè la juve ha la possibilità eventualmente di sorpassare la roma in classifica se vince contro il genoa e quindi diciamo che sembra un calendario fatto apposta per dare alla juventus la definiamo ultima chance direi di sì l'ultima chance per rientrare in un giro importante ok sembra fatto apposta anzi qualcuno dirà che è stato fatto apposta perché la juventus deve essere sempre aiutata in qualche modo quindi qualcuno ha fatto apposta a dare alla juventus le ultime partite del giro di andata semplici sulla carta semplici per poter tornare diciamo ad esprimersi ad un buon livello non ad un certo livello ma ad un buon livello tra l'altro tra l'altro e con tutto il rispetto che va dato a tutte queste squadre è passata la sernitana adesso c'è il genoa c'è il venezia c'è il bologna c'è il cagliari non dimentichiamo che una di queste quattro il bologna ha gli stessi punti della juventus e sta coltivando ambizioni europee è un po considerata la rivelazione di questa stagione come sempre ma come tutti gli avversari ci metterà il 200 per cento contro la juve poi a bologna c'è un particolare odio nei confronti della juventus vorrei capire dove non c'è ma vabbè ma questo è un altro discorso e quindi attenzione perché non è che dice bologna e poi comunque anche le altre nelle quali la juve deve fronteggiare l'avversario e diciamocelo pure senza mancare di rispetto a nessuno soprattutto se stessa anche in questo caso aspettare pazienza forse quale serve un po meno rispetto all'inchiesta penale iscrivetevi al canale ci vediamo questa sera per ulteriori approfondimenti e vedremo se ulteriori novità ciao